Allora, lascio la parola a Davide Pettinari, responsabile del market di Levercon, che presenta l'omaggio per i tifosi della partita con l'Armani Ginso del 26 dicembre. Esatto, allora per la partita del 26 dicembre, per regalare e fare gli auguri di Buon Natale a tutti i tifosi della Vanoli e alla squadra, abbiamo deciso di realizzare duemila bam bam luminosi che si illuminano con il movimento, hanno dentro una luce a led e li regaleremo per la partita contro il 26 appena prima della partita, quindi ci auguriamo di vedere il palazzetto tutto pieno, tutto esaurito e di poter creare una grande coreografia per incitare la squadra verso una grande prestazione. Grazie.